Bentornato e benvenuto caro osservatore del cielo, mi chiamo Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia, un appuntamento quotidiano o quasi, dopo scopriremo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. La mia speranza e il mio desiderio sono quelle di invogliarti ad alzare gli occhi verso il firmamento e cercare di esplorare l'universo. Oggi è domenica 8 marzo 2020, ultimo giorno della decima settimana, 68esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato, 58.916. Il sole è passato al meridiano alle 12.25, mentre la luna nella fase gibbosa crescente inizierà a solcare questi cieli alle 16.36. Alle 18.12 il sole tramonterà dopo 11 ore e 33 minuti trascorse dall'alba. Ma cos'è il meridiano di cui parlo sempre e perché è importante? Il meridiano è quella linea immaginaria sulla volta celeste che attraversa il polo nord celeste e lo zenith. Detto più semplicemente è quel cerchio che passa sia per il polo nord celeste vicino alla stella polare per intenderci che per il punto corrispondente alla verticale detto zenith. Questo cerchio oltre ad attraversare il polo nord celeste e lo zenith attraversa il punto cardinale nord e il punto cardinale sud. Il modo più facile per ricavare il meridiano di giorno è quello di identificare punti cardinale nord e sud e congiungerli con una linea immaginaria passante per il punto verticale. Quello che abbiamo determinato in questo modo si chiama meridiano locale ed è caratteristico di quel preciso luogo. Se vi spostate in longitudine il meridiano cambia. È importante perché quando il sole passa per il meridiano locale si dice che è il mezzogiorno locale. Attenzione che il mezzogiorno locale non coincide con quello dell'orologio per diversi motivi. Uno di questi, il più facile da spiegare in poco tempo, è che il meridiano di riferimento dell'ora centrale europea, quella del nostro fuso orario per intenderci, è il quindicesimo meridiano est che per darvi un'idea passa per l'Etna e la città di Termoli. Siccome il percorso apparente in cielo del sole va da est verso ovest, se ci troviamo a est del quindicesimo meridiano il mezzogiorno locale sarà anticipato rispetto a quello dell'orologio. Se invece ci troviamo ad ovest il mezzogiorno sarà posticipato. A questo punto possiamo dire che ogni meridiano ha un suo mezzogiorno locale. Due città che si trovano a longitudini differenti avranno quindi mezzogiorni locali differenti. Nella determinazione del mezzogiorno entrano in gioco anche altri fattori ma magari ne parliamo in un altro video. Il tramonto di questi giorni difficili per il nostro paese è illuminato dalla bella Venere che alte in cielo tra ovest e sud ovest lentamente procede verso il giorno di massima luminosità. Oggi la notte astronomica inizierà alle 19.48 accompagnata dalla luna che culminerà alle 23.50 illuminata al 99%. Così come il sole anche la luna e pianeta e le stelle sorgono, culminano e tramontano. Il culminare vuol dire che transitano per il meridiano. Per trovare il meridiano locale di notte si deve tracciare una linea sulla sfera celeste che passa per il punto verticale e per la stella polare. E anche questo meriterebbe un video a parte. Il culminare degli astri coincide col momento del giorno o della notte in cui l'astro si trova alla massima altezza sull'orizzonte, cioè quando passa per il meridiano. Il momento migliore per osservare gli astri è proprio questo perché è la loro luce meno attenuata dall'atmosfera. Le tabelle con gli orari dell'alba, del transito e del mondo giorno per giorno sono dette effemeridi. Per gli astri la complessità di capire quando culminano sta nel fatto che, mentre il sole transita al meridiano non esattamente ma comunque in prossimità delle 12 o delle 13 durante l'ora legale, per gli altri astri l'orario del passaggio al meridiano cambia durante l'anno. Ma anche in questo caso, se siete interessati, ne riparleremo in un altro video. Lunedì 9 marzo alle 5 finisce la notte astronomica e nell'attesa che arrivi il possiamo guardare verso sud-est il trio planetario formato da Saturno, Giove e Marte. Il sole sorgerà alle 6 e 37 mentre la luna tramonterà alle 6 e 50. A questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.